Fare maggiore chiarezza sulla morte di Elenia, la giovane 29enne deceduta in seguito all'incidente stradale avvenuto a Ristradelle di Olmo, alle porte di Arezzo. L'auto della giovane, una Atos, si è scontrata frontalmente con un SUV che arrivava dalla direzione opposta. Nessuno scampo per la ragazza del cagnolino che viaggiava con lei. L'ipotesi di reato è quella di omicidio stradale. Nel registro degli indagati, come avviene in questi casi, è stato iscritto il 46enne che era a bordo della Nissan. Secondo i primi elementi raccolti a causare l'incidente, sarebbe stata un'invasione di corsia da parte dell'uomo alla guida del SUV, ma gli inquirenti non escludono altre ipotesi. Sul corpo della ragazza è stato eseguito l'esame autoptico disposto dal PM Andrea Claudiani, successivamente la famiglia potrà avere il nulla osta per i funerali della ragazza. Una giovane volontaria dell'EMPA, amata, conosciuta e suoi amici, hanno pensato ad una raccolta fondi in sua memoria. Non se la sentono però di parlare ai nostri microfoni, il dolore, ci dicono, è troppo forte. Questo è il posto con cui è stata indetta la raccolta in favore del rifugio per animali ipoasi. Il denaro servirà a sostenere l'adozione di uno degli animali del centro.